sono felice di aver pubblicato soverato a tontologia 1976 2018 di ottavio rossani giornalista pittore poeta si parla in questa raccolta diversi di calabria sila soverato certo ma si tratta di geografia dell'anima fondamentalmente in realtà quello che colpisce nei versi di rossani è il fatto di riuscire a creare dei bozzetti meravigliosi di vita quotidiana che proprio perché rendono ad alta definizione il tutto sono diciamo di carattere universale appartengono a tutti noi la poesia che più consiglio della raccolta per comprendere meglio la psicologia perversi di rossani è appunto servizio al tavolo naturalmente nell'infobox del video il link per l'acquisto